Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 5 novembre, prima di vedere tutto quello che devo mostrarvi nel video vi devo dare addirittura 5 segnalazioni importanti, tutti i link li trovate nella descrizione del video se state vedendo il filmato su YouTube, sono tutte cose molto importanti e quindi ve le ricordo. La prima, solito link di affiliazione Amazon, se volete supportare il canale fate i vostri acquisti tramite quel link, una piccola parte va al canale per la conquista di attrezzatore eccetera eccetera che servono appunto al canale e al network di siti. La seconda, Konami ha lanciato un sondaggio ufficiale che vi consentirà dopo la chiusura del sondaggio di avere 25.000 GP in omaggio, ma la cosa importante non sono solo i GP ma il fatto che possiamo far avere il nostro feedback su quello che pensiamo di presto 2021 a Konami. Io vi consiglio di compilarlo nel modo più analitico e sincero possibile, nel senso che dove il gioco secondo voi va bene mettete un buon voto, dove secondo voi va male mettete un cattivo giudizio, mettere tutto negativo, tutto positivo ha poco senso, poi fate come volete. C'è l'anteprima dei prossimi agenti giocatori in evidenza di lunedì, sono quattro nazionali, trovate il link. Oggi pomeriggio alle 16 si vince Project Cars 3 per Xbox One e Xbox Serie XS, alle 15 la pubblicazione e la domanda su italiatofgames.it, alle 16 la diretta su Simpli Radio, non mancate, bel giocone Project Cars 3. Infine, tornei come se non ci fosse un domani, dal 9 novembre inizia una serie di tornei che vi farà vincere tutte le 5 Club Edition di PES 2021 per PlayStation 4, anche in questo caso c'è il link, mi raccomando, tante cose davvero da fare, da vincere, da leggere. Insomma, il network italiatofgames cerca sempre di darvi tutto e di più. Allora, subito subito, giocatori in forma, Messi, Ronaldo, De Bruyne, Mbappé, Mané, Griezmann, ce ne ho parecchi questa settimana, Lenglet, Allan, Fekir che c'è in prestito, Kolarov, Quadrato, insomma io sono messo abbastanza bene per i giocatori in forma. Scende Courtois, scende Ndombele, scende Wan-Bissacqua che però pure lui, Caillon scende Fred, scende Ospina, scende Lozano, scende Marega, scende Lala, Sigali, Castrovilli, Ture, Pavoletti e tanti, tanti, tanti altri. Sono molto curioso vedere i giocatori in evidenza della settimana, eccoli qui, Benzema, Tiago Silva, Morata, Parti, Bale, Alario, Consigli, Malinowski, Fedda, Alteio e Vlewet. Così è così, niente di eccezionale, onestamente, vediamo i 1500 GP gratis, 18.000 GP dalla Football League settimanale, sarò di nuovo nella divisione 4, e mi va bene così, sono arrivato settimo, 39 punti, ok. Allora, vediamo un po', ci sono due posti in arrivo, ah, i preparatori di abilità, proprio, neanche li ricordavo più. Allora, eccoci qua, agenti, oggi aggiornamentino non eccezionale, onestamente. Allora, ci sono gli iconic moment del Manchester City, con loro tanti altri giocatori, come Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Aguero, Mané, Salah, Tiago, Sterling, Ederson, Tibala, Chesney, Mobile, eccolo qui, il portiere, Given, 87. Niente di che, sostanzialmente. E poi Barry, mediano, 87. Insomma, penso che saranno pochi a girare queste icon, anche perché poi non capisco perché proporre quelle del Manchester City, che non è una squadra partner, ma vabbè, scelte, scelte. Ecco, gli altri giocatori, c'è un po' di tutto, molti giocatori anche della Serie A, ma non solo. Ma, così, così. Questi non mi hanno convinto molto. Allora, i giocatori della settimana li abbiamo visti, andiamoli a vedere in dettaglio. Benzema, 92, sarebbe interessante, onestamente. Vari aumenti in vari settori, non c'è neanche un azzurrino, però una punta che parte da 92 è mica male. Tiago Silva, 91, comportamento difensivo, sale di 5, 95, elevazione 92, contatto fisico 90. Ebbè, questo è un signor difensore. Morata, 90, qui aumenta di 3 sia in velocità, sia in accelerazione, sia in resistenza. E poi, altrimenti, anche nei parametri di attacco, la finalizzazione è addirittura 86. Niente male, anche Morata a 90. Parti 89, 25 livelli di crescita, qui c'è un buon aumento per il passaggio alto. Bail 88, Bail un pochino mi tenta, perché l'ho avuto sempre negli ultimi pass, e alla fine si è rivelato più importante di quello che credessi. Qui aumenta un po' dappertutto, soprattutto comportamento offensivo, 85, finalizzazione 87. Ah, visto che mi è stato chiesto, quello che vi mostro qui, sono i parametri di aumento rispetto alla versione bassa del giocatore in evidenza. Cioè, normalmente, Bail, ad esempio, su finalizzazione avrebbe 82, essendo in evidenza va a 87. Visto che un paio di persone me l'hanno chiesto, questa settimana lo voglio puntualizzare. Così, ecco, voi sapete perché questo giocatore è interessante a prendere proprio questa settimana in evidenza, sostanzialmente. Andiamo avanti, Alario, punta del Bayer Leverkusen, ha vari aumenti interessanti, sia in controllo palla che in comportamento offensivo, 6 punti in più. Finalizzazione 6 punti in più, colpo di destra 3 punti in più, però punta da 88. Consigli, partitone col Napoli, non ha sbagliato solo Simena, ad esempio nella prima, nella grande occasione che ha avuto, è stato bravo anche lui, però ha sbagliato anche Simena. È un concorso di colpe da prospettiva napoletana, concorso di merito dalla prospettiva del Sassuolo. Spinta PT 90, presa PT 91, riflessi PT 89, estensione PT 92. Ottimi aumenti, 23 livelli di crescita. Certo, non è proprio tra i primissimi, ma consigli, con questi barami, diventa un portiere interessante, diciamo. Marinowski dell'Atalanta, calci piazzati 90, controllo palla addirittura 87, passaggio da Saterra 86, passaggio alto 88, 27 livelli di crescita. Beh, niente male, non velocissimo però. Fedda l'86, anche qui va a ricrescita, ma si inizia a scendere l'86. E poi c'è questa palla oro, Teio, che è un giocatore che ho avuto per tanti anni fa in un PES, mi ricordo se è il 2016 o il 2017, piaceva tantissimo. E guardate un po' la velocità, 94, accelerazione 92, discreto come giocatore, ecco. Prima però era più alto, cresceva molto di più. Bluett 81, e qui diciamo, sì, le crescite sono molto elevate, perché arriviamo, guardate, in attacco 5, 5, 5, 5, 8 di crescita di finalizzazione, però è una palla oro 81. Quindi, così e così. Queste, diciamo, quindi sono le novità. Io adesso giro il Premium Argent, i Silver Ball e i Gold Ball che ho, così almeno qualche cosa giriamo. Vediamo un po' il Premium Argent che non mi dà mai grandi soddisfazioni, se oggi fa diversamente. Magari il terzo Griezmann, ce n'ho due. No, niente Griezmann, palla argento e vive, viva, Manchester City, Foden. Questo è un giocatore che cresce tantissimo, perché infatti, vediamo un po', 51 livelli di crescita, solo che i 51 livelli sono tanti. Masuaku, altra palla argento, Huntelar, 76, bene, Foden lo tengo, anche perché gioca nel Manchester City, per i prossimi Match Day potrebbe essere utile. Invece, questi altri due, il caro Huntelar, il caro Masuaku, diventeranno Esp, vi do questo spoiler. Poi, andiamo sui Silver Ball, sono riuscito a farne due di Match Day, questo inizio di settimana, scusate. Allora, Silver Ball andiamo veloci. Monaco, Jamerson, anche lui diventerà indubbiamente un Esp. Il Monaco non è quelle squadre che ritengo utili neppure per il Match Day, capiterà che ci sarà, ma non la prendo. E qui abbiamo invece Larsson, dello Spartak Mosca, svedese, anche lui diventerà un Esp come pochissimi. E andiamo infine alle Gold Ball. E qui ho più speranze, dai. Palla d'oro, Bayer Leverkusen, mi sembra. Bella Rabi, Bella Rabi, è da Bella Rabi. Che ne dite? Io penso che lo metto, vabbè, forse Bayer Leverkusen potrebbe avere senso. 30 livelli di crescita ed 80. Fatemi sapere che ne pensate, a me non esalta, onestamente. E andiamo con l'ultimo. Italia Il giocatore della Lazio Con ancora la Coppa Italia Ramos Ah no, Luis Felipe, Luis Felipe 81 Non lo so, devo decidere se tenerlo o meno, ma La Lazio potrebbe essere interessante per il Match Day, ma non lo so, vedrò. Mi devo decidere. Allora, mi pare che qui non ci sono altre novità Perché Coppa Challenge c'è sempre Quanto visto lunedì Per sicurezza diamo un'occhiata Ma non penso che ci siano sorprese Ecco qui, infatti, le challenge Non sono avuto il tempo di farla E poi le challenge contro Com Insomma, oggi sicuramente Un aggiornamento sottotono Dai, giocatori della settimana non particolarmente interessanti A parte un paio Le icone del Manchester City Onestamente inspiegabili Tra tante squadre Cioè una squadra senza licenza Senza nome ufficiale Senza kit ufficiale Devi fare questi due icone Che non sono proprio giocatori In grandissimo appeal La settimana scorsa Abbiamo fatto i fuochi artificio Konami E continua con questo ritmo altalenante Che davvero Si potremmo un pochino più livellare Per fare Per renderlo più Convincente Il ritmo di Il ritmo di My Club Perché Giovedì scorso Ho dovuto fare così tante news Di novità Eccetera eccetera Che Stavo impazzendo Oggi C'è veramente poco Però per fortuna Lunedì arrivano questi quattro Agenti nazionali Che Saranno davvero sicuramente Più interessanti Io vi do appuntamento Oggi è pomeriggio Con il TG Tech Mi raccomando Voglio farvi vincere Project Cars 3 Per Xbox One Xbox Serie X Xbox Serie S Vi raccomando Tutti gli altri link Che trovate nella descrizione Del video Ci sono tante cose Interessanti Buon giovedì Buon fine settimana E Ciao a tutti Ciao